Ma ancora una volta si è dimostrumato che non è possibile in Italia salvaguardare le istituzioni democratiche se si escludono i comunisti. E questo non è che esista il cosiddetto potere diretto di cui va cianciando qualcuno, del partito comunista verso i governi e verso i provvedimenti che non ci sono veraniti. Ma anche una legione più profonda perché il partito comunista ha assunto e difeso una funzione di garante democratica. Chi vuole escludere il partito comunista, chi vuole governare con questo partito che rappresenta da solo un terzo dell'elettorato, ma anche la parte maggiore della formazione attiva, la oratrice, impegnata, giovane, forza e l'elettorato. Il dissesto, il dissesto e il caro che in queste ore sono sotto gli occhi di tutti. E questo è il motivo principale per cui noi riteniamo di poter chiedere con tranquilla pacienza il voto anche agli militanti ed elettori del partito socialista, anche ai cattolici democratici, a una parte grande del ministro si denomacristiano, a quanti sentono che siamo arrivati a un momento in cui tornano in gioco le questioni essenziali della libertà e della democrazia. I comunisti hanno dimostrato anche negli ultimi mesi di sapersi battere per garantire le libertà e i diritti democratici non solo per se stessi in quanto opposizione, ma per tutti, anche per chi non è comunista, anche per chi è avversario di un comunista. Grazie. Potrei considerarmi a voi, cittadini di Padova, con qualche parola su di voi e sulla vostra città. Negli anni scorsi si è molto parlato di Padova in Italia per le tormentate vicende che si ha vissuto in conseguenza della concentrazione di forze terroristiche che qui si è formata e per la lotta ampia e tenace contro di esse condotta dalle forze vive della città. In questa lotta decisiva è stata l'alleanza tra i lavoratori e le forze della cultura e dell'università. decisivo è stato il ruolo che hanno svolto i comunisti Padova. Proprio quella che avranno la lotta democratica contro l'emersione ha rivelato a Padova la presenza di grandi energie, dinamiche, progressiste sia in campo alico che in campo cattolico. in primo luogo quella della tradizione universitaria l'alba e della libera ricerca espressione nei secoli di un pensiero che non si vieda ai dogmatismi e ai fanatismi. qui a Padova nello studio per cui di Galileo e di altri grandi pensatori vi è una delle manici culturali che dà ragione della vigorosa azione svolta dalla intellettualità e dall'università nell'antifascismo e nella guerra di liberazione nazionale. In nome dei comunisti Eugenio Pugliel è il concetto a tutti Siamo a tutti di Silvio Trangini e di Eugenio Meneghetti e sono emblematica testimonianza. E c'è la Padova dei Giovani nella vostra città si sono 50.000 studenti universitari e decine di milaglia di studenti medi che si trovano spesso ad affrontare rari e pesanti problemi quelli dei servizi della qualità dello studio del funzionamento delle strutture scolastiche della vita culturale e associativa della liberazione della tossicodipendenza problemi che sono ben lungi da essere risoluti. e invece nel mondo giovanile vi sono immense energie e potenzialità. In esso è più che mai viva l'esigenza di prospettive di cambiamenti di un futuro per il quale valga la pena di lavorare di studiare di notare le vecchie forze del tradizionale notabilato democristiano non sono più capaci di offrire punti di riferimento né di suscitare energie ripiegate come sono su se stessi in particolare dopo la sconfitta subita nel giugno dell'anno scorso dalla democrazia cristiana. Nel mondo cattolico si sviluppano però e si esprimono sensibilità e iniziative ci pensi al movimento unico nel suo genere del pastoral del lavoro o ai gruppi che operano per la pace che si manifestano in modo autonomo rispetto alla vecchia area neocristiana e bene a tutte queste forze della cultura della scienza del lavoro del mondo giovanile a quelle più vive e aperte della realtà cattolica i comunisti indicano una prospettiva di pace in Europa e nel mondo di riservamento di trasformazione del nostro paese di rinnovamento della politica e dell'organizzazione della società in una salda garanzia di democrazia e di libertà votando il nostro partito comunista italiano si contribuisce a portare in Europa un'Italia diversa da quella a cui l'hanno ridotta i partiti che l'hanno governata finora e che la volessa si può non l'Italia della politica ma l'Italia pulita democratica l'Italia che hanno detto e dicono no al decreto sulla scala mobile l'Italia è la grande manifestazione del 24 marzo a Roma l'Italia è la grande manifestazione della produzione della tecnica della cultura l'Italia del enorme che vogliono cambiare la società non solo una coincidenza una parità di efectiva della scena al lavoro alle professioni alle carriere bravo Riccardo a una fermata nella società con i bravori generali di cui esse sono le peculiari portatrici dopo secoli di oppressione e di ragazze a una fermata Grazie a tutti. A impegnarli tutti, a questi pochi giorni che ci separano dal voto, con lo slancio che sempre i comunisti hanno dimostrato nei momenti di scuola. Grazie. 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 Per queste proposte che presentiamo, per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa. La pace della libertà, del lavoro e del progresso della nostra.